L'idea è quella di realizzare un campus universitario legato al tema del mare. Il progetto, elaborato dalle associazioni ambientaliste, è stato presentato stamani in provincia per sottoporlo a consiglieri comunali, regionali e candidati. Oggi è un po' il proseguimento di quello che è stato il convegno che abbiamo fatto a Portovanere il 10 di marzo scorso, Associazioni Ambientaliste Italia Nostra, Lega Ambiente, Lipu e Grasp, con il laboratorio Palmaria. Allora venne fuori nel dibattito un'idea che una parte della Palmaria potrebbe essere adibita a campus universitario con la ricerca su il santuario dei cetacei, la tutela del mare, la tutela del paesaggio. Oggi noi qua con questa conferenza stampa, questo incontro con i cittadini cerchiamo di dare una prima idea, un progetto vero e proprio non c'è ancora, però c'è un'idea progettuale che lanciamo a tutta la città. L'isola Palmaria non solo come giardino naturalistico, ma come un luogo in cui fare educazione, formazione, ricerca, aprendola così tutto l'anno a eventi e visite. Campus si individua come un luogo dove si scambia, si ricerca, si divulga in maniera qualitativamente molto elevata, si divulga il sapere ma soprattutto si esperienzia il sapere, cioè il campus è un luogo dove si fanno esperienze e le esperienze come il sapere devono essere elaborate e aperte a tutti. I forti sarebbero allora destinazioni ideali per accogliere gli studenti e per organizzare laboratori promuovendo un turismo di qualità. Preoccupazione è stata espressa per l'inserimento della Palmaria dalla Regione nelle zone economiche speciali, che potrebbe in qualche modo ostacolare il percorso partecipativo per il futuro dell'isola. Questo progetto di campus può essere inserito all'interno del masterplan su cui si sta discutendo, su cui si sta ragionando da tempo o è un progetto alternativo? In teoria potrebbe essere anche inserito, perché quando si saprà poi in concreto cos'è, però in realtà è alternativo perché è alternativo un po' all'impostazione anche data dalla Marina e dallo Stato di procedere a un'operazione di fatto edilizia, di riorganizzazione con una vendita forte da parte del Comune per poter acquisire i fondi, per fare un restauro e così via. E quindi tutto il patrimonio dell'isola viene visto in funzione di questa operazione. Invece secondo noi il patrimonio dell'isola è già pronto.